Allora, volevo assolutamente dire due parole in quanto regista del docufilm Come siamo dietro le quinte è un film che parla della preparazione alla lavorazione di un film quindi tutto ciò che succede prima che il film batta il primo chat è il dietro le quinte di quello che succede prima il lavoro degli attori, sui personaggi, la costumista, lo scenografo e tutto questo ovviamente caratterizzato da diversi personaggi che sono nient'altro che ciascuno una parte di me ho pensato dei personaggi che avessero dei lati che mi appartengono e quello che è stato bellissimo scoprire è che in ognuno di questi ragazzi miei studenti di ieri c'era in loro una parte di me e quindi ho scoperto anche che in me c'era una parte di loro essendo stati miei studenti in anni passati è stato bellissimo avere questa reciprocità e soprattutto non sono loro quelli che esprimono le parole, i sentimenti, le emozioni ma sono i personaggi e invece sembra che loro parlino di loro stessi ed è una magia incredibile e il lavoro che è stato fatto dai ragazzi fa vedere come in ciascuno ci possa essere un sentire che appartiene a tutti e quindi universale grazie 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 Grazie.